Che bella sta di mia madre, mi raccicò ma spettami di voti, mi raccicò ma spettami di voti. E di ricerchi si dun'ara vista, li peccaturi cari papuniti, li peccaturi cari papuniti. E di ricerchi si dun'ara vista, li peccati. Grazie a tutti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Iniziamo questa celebrazione eucaristica alla presenza della Mamma di Maria all'inizio di questo mese di maggio. Vogliamo presentarci le nostre fragilità. Disponiamoci a vivere questo momento di lode e di ringraziamento. Un saluto a tutti voi fedeli, devoti della Madonna di Bombile che ci seguite attraverso le mie tende e le mia. Disponetevi a vivere questo momento nell'accoglimento e nella preghiera. Confesso a Dio Onipotente, a voi fratelli e sorelle, Dio Onipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, e ci conduca alla vita eterna. Amén. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. O Dio che hai chiamato l'uomo a cooperare con il lavoro al disegno della tua creazione, fa che per l'esempio e l'indicezione di San Giuseppe siamo fedeli ai combiti che ci affidi e riceviamo la ricompensa che ci prometti per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, viveregna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostola ai Colossesi Fratelli, sopra tutte queste cose rivestitevi della carità che le unisce in modo perfetto e la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché a essa siete stati chiamati in un solo corpo e rendete grazie, e qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di Lui a Dio Padre. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete come ricompensa l'eredità. Servite il Signore che è Cristo, parola di Dio. Rendi salda, Signore, l'opera delle nostre mani. Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre Tu sei, o Dio. Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici, ritornate, figli dell'uomo. Mille anni, ai tuoi occhi, sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando abbi pietà dei Tuoi servi. Sazioci al mattino con il Tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Si manifesti ai Tuoi servi la Tua opera e il Tuo splendore ai loro figli. Alleluia, 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 Alleluia. Di giorno in giorno, benedetto è il Signore. A noi Dio porta la salvezza. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva «Da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua». E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. Parola del Signore. Parola del Signore. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, gentili autorità civile e militari, signor Sindaco, una lunga tradizione di fede ci raccoglie in questo luogo. Noi siamo espressioni di questa tradizione di fede mariana che ha avuto nel santuario della Madonna della Grotta qui a Pombile un suo centro, un punto di riferimento importante fino a quando questo santuario è venuto a crollare, ma la fede continua. Questo è molto significativo, il santuario non c'è più, ma la fede in Maria continua a sostenerci e ad illuminarci nel nostro cammino di vita. Una fede che ci dà forza, una fede che ci dà speranza, una fede che ci porta a guardare oltre nonostante i problemi che la quotidianità ci presenta. Oggi siamo numerosi, convenuti qui dopo aver passato il tempo delle restrizioni che hanno impedito di vivere questo momento di fede qui, come sempre era stato fatto. La nostra fede ci porta ad accogliere Maria come la madre del Signore, come la sposa di Giuseppe. In questo primo giorno di maggio la Chiesa fa memoria proprio di Giuseppe, Giuseppe Lavoratore. E non c'è nessuna contraddizione, su dire, tra questo ricordo di Giuseppe, lo sposo di Maria, Lavoratore, e Maria, cui è dedicato tutto questo mese di maggio. Dicevo quasi così in maniera spontanea che il primo a credere in Maria è stato proprio Giuseppe, con tutte le difficoltà del caso, ma è stato lui a riporre fiducia in questa donna capolavoro di Dio, in questa donna che aveva ricevuto dal padre la missione di essere madre del Redentore, e quindi sposa di Giuseppe, di essere madre del Redentore, però proprio dallo Spirito Santo. E Giuseppe, che vedeva in lei, che aveva accolto Maria come la sua promessa sposa, di fronte proprio al concepimento di Maria, dopo il primo momento di difficoltà e di incertezza, crede nella fedeltà di Maria, e crede che Maria sia proprio la donna voluta da Dio in questo meraviglioso progetto di salvezza. Dicevo, il primo che ha creduto nella fedeltà della sposa in Maria è stato proprio Giuseppe, che oggi noi consideriamo nel suo essere lavoratore. Giuseppe ha portato avanti la responsabilità della famiglia con il suo lavoro, il suo lavoro di farigname, di cartinghiere. In una condizione di vita, direi molto molto normale, la difficoltà infatti di accogliere Gesù, proprio a Nazareth, da parte dei suoi congittadini, era proprio la sua origine, un'origine umile, un'origine ordinaria, possiamo dire. Tutti sapevano essere il figlio del farigname, se non il farigname. Tutti sapevano il nome della madre, Maria. E tutti si ponevano loro il dubbio, com'è possibile che da un uomo così normale, possa venire fuori tanta sapienza. Com'è possibile che egli possa accogliere opere così importanti, miracolosi. Com'è possibile che egli possa essere il Messia, possa essere il profeta. Lui che viene da una famiglia normale. La normalità della famiglia di Nazareth, la Sip che è proprio in quel contesto, Gesù maturi la sua missione. Gesù viva molta parte della sua vita, i primi trent'anni della sua vita, trascorse nel nascondimento, nel silenzio di Nazareth. Gesù condivide la vita ordinaria della sua famiglia, partecipando alle attività del genitore di Giuseppe e seguendo i consigli della madre di Maria. E Maria, da madre, da buona madre di famiglia, tiene unita questa famiglia. E anche lei partecipa, col suo lavoro, con la sua attività domestica, all'interno della casa, partecipa alla vita di questa piccola, grande famiglia di Nazareth. Conosciuta a Nazareth, ma a quel tempo Nazareth era veramente un piccolissimo, piccolissimo borgo di poche case. E quindi tutti conoscevano Gesù come figlio del Farignamo e il Farigname. Comunque tutti conoscevano Maria per quello che era. Ed è proprio questo contesto di ordinarietà che fa difficoltà ad accogliere il Signore Gesù. Molti non riescono a credere a Gesù proprio perché egli appartiene ad una famiglia normale, proprio perché egli svolge una vita normale. C'è sempre la tentazione di vedere Dio come colui che si inserisce nella nostra vita con la sua onnipotenza, con la sua infinita saggezza. Spesso non riusciamo, o facciamo fatica, ad accogliere Dio che entra nella nostra storia, nella normalità della nostra vita, di ogni giorno. Spesso facciamo difficoltà ad accogliere Dio nelle cose ordinarie della nostra vita. Eppure nelle piccole cose, nelle piccole relazioni umane fondamentali che il Signore Gesù si presenta. Oggi allora, ecco, questa celebrazione cade in un contesto particolare in cui la nostra comunità civile richiama il valore del lavoro, la giornata del lavoro, dei lavoratori, questo primo maggio. E non possiamo non rivolgere un pensiero nella nostra riflessione proprio alla importanza, alla necessità del lavoro. Sembra essere scontato questo discorso, eppure non lo è. Sembra essere scontato che tutti viviamo di lavoro, tutti siamo chiamati a vivere col sudore della nostra fronte, ma scontato questo discorso non è, perché tutti non hanno accesso alle possibilità di lavoro secondo i propri desideri. Eppure il lavoro è fondamento dell'uguaglianza in una società. Se non c'è lavoro in una società, o se alcuni lavorano e altri non lavorano, si crea una gravissima forma di disuguaglianza sociale. Il lavoro è necessario perché tutti possiamo sentirci uguali e soprattutto tutti possiamo riconoscere quella dignità che c'è in ciascuno di noi. Chi non ha lavoro è una persona a cui viene negata la dignità, la dignità dell'essere uomo, la dignità dell'essere donna. Qui il lavoro riguarda sia l'uomo e sia la donna, perché è attraverso il lavoro che ci si realizza, attraverso il lavoro uno persegue la sua felicità, persegue anche il suo benessere. Attraverso il lavoro ciascuno contribuisce a rendere la nostra comunità più bella, più vivibile, più umana. Dove manca il lavoro, manca la dignità. Allora è giusto che anche noi come cristiani ci poniamo questa domanda sul lavoro. Tutti noi ci sentiamo coinvolti, impegnati anche nel creare, favorire occasioni di lavoro, perché ogni uomo possa realizzarsi attraverso il lavoro. Ma questo non è un fatto così secondario, opzionale. È scritto nella natura stessa dell'uomo e della donna, cioè contribuire alla crescita della società, alla crescita dell'umanità, attraverso l'attività lavorativa. Nel piano creativo Dio ha previsto che l'uomo collabori con lui nel piano della creazione. Dio ha previsto che l'uomo guadagni il pane col sudore della sua fronte. Dio ha previsto che l'uomo possa essere governatore del mondo attraverso il lavoro. Dio ha previsto che attraverso il lavoro l'uomo può rendere più bello il mondo in cui vive. In altri termini, il lavoro è una via di realizzazione della propria dignità umana e della propria relazionalità sociale. Senza il lavoro l'uomo viene privato della sua dignità. Oggi guardiamo proprio Giuseppe, che è sposo di Maria, che ha avuto un ruolo importante nella storia della salvezza e quindi nella vita di Gesù e di Maria, proprio svolgendo un lavoro, un lavoro umile, un lavoro semplice ma importante. Perché lavorando ha garantito a Gesù e a Maria quelle condizioni di vita necessarie per poter guardare con speranza, con gioia, la propria vita, il proprio cammino di vita. Allora ecco, guardiamo a Giuseppe come sposo di Maria, come una persona semplice che ha amato la vita e ha amato il lavoro, non è mai sfuggito a questo impegno. E questo ci porta anche a dover lavorare per un mondo più uguale, per un mondo più giusto, che garantisca a tutti la possibilità di avere lavoro. E che tutti facciamo in modo di poter realizzarci attraverso quelle attività che siamo capaci anche di svolgere con i doni, con i talenti, con le qualità che il Signore ci ha donato. Maria possa essere la madre che ci accompagna in questo cammino, che ci dia fiducia, speranza. E' la madre che ci mostra sempre il suo figlio nella nostra vita, ci mostra sempre Gesù. Fate quello che Egli vi dirà. Questo è l'imperativo, l'invito che Maria ci rivolge. Fare tutto quello che Gesù ci dirà. E lei nella sua vita ha accompagnato il cammino di Gesù. Allora come cristiani dobbiamo fare in modo che la nostra fede abbia sempre uno sguardo, un'attenzione rivolta a Gesù. Dobbiamo conoscere di più questa figura. Il nostro Dio che si è fatto uomo, Gesù. Prendere di più in mano il Vangelo, perché attraverso il Vangelo noi possiamo conoscere meglio la figura di Gesù. Questa pagina del Vangelo di Matteo ci mette di fronte la figura di Gesù che non trova quell'accoglienza che meritava di accogliere. E questa accoglienza non la trova proprio nel suo paese, in Nazareth. E non trova questa accoglienza perché Egli si mostra come un uomo comune, come tutti gli altri appartenenti ad una famiglia comune come tante altre. Ecco la difficoltà allora di aderire al Signore Gesù. E Gesù si rende conto di tutto questo. Si rende conto che Egli viene rifiutato proprio laddove doveva essere immediatamente accolto perché conosciuto. Ma non basta la semplice conoscenza per accogliere Gesù. Occorre la fede, quella fidarsi al Signore Gesù nella propria vita che fa sì che non ci sentiamo soli. Oggi pur riconoscendoci tra i fedeli, tra gente che crede, spesso manca proprio la fede in noi, manca proprio quella forte convinzione interiore che ci fa accogliere la presenza e la vicinanza del Signore nella nostra vita. Dio non ci abbandona nella nostra vita. Dio ci accompagna passo passo la nostra vita. Dobbiamo superare tutti quegli elementi di distrazione che spesso ci portano a guardare lontano, a non riconoscere nella feialità, nella quotidianità, in quello che facciamo, nelle nostre relazioni positive, umane con gli altri, la presenza del Signore. Il Signore possa illuminare il cammino della nostra vita, possa dare alla nostra fede più consistenza, più interiorità, più profondità, meno superficialità. Non riduciamo la nostra fede a tradizioni esteriori che non portano a Dio. Accogliamo questi momenti di festa come veri momenti di ritorno al Signore. Maria è la madre che ci invita a ritornare sempre al suo figlio, a non dimenticarci del suo figlio, perché senza Gesù, senza Dio nella nostra vita non abbiamo speranza, non abbiamo certezze. Il terreno ci viene meno, sotto i nostri piedi. E come possa essere questa celebrazione, questa solennità, in onore della Vergine Maria, un'occasione per noi per ricoprire la gioia del nostro essere credenti, del nostro essere con il Signore. Ok. 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 Grazie a tutti. 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 degni di stare alla tua presenza e combiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendi la perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, i Presbiteri e i Diacoli. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volo. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe e Suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Dio Padre Onnipotente, Libera ciò, Signore, da tutti i mali. Concede la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre libere dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si combia la Beata Speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore, Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donare unità e pace secondo la tua volontà. Tu che viveregni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Grazie mille, Gesù Cristo. Grazie mille, Gesù Cristo. Ecco l'agnello di Dio, ecco cui che toglie i peccati del mondo, viati gli invitati alla cena dell'agnello. Grazie mille, Gesù Cristo. Grazie mille, Gesù Cristo. Grazie mille, Gesù Cristo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.